Oggi quello che abbiamo chiesto ai parlamentari è stato di prestare massima attenzione a quello che è l'avvertenza, non avevamo dubbi della risposta positiva, ma quello che ora devono fare, che noi chiediamo, è stare vicino al Ministero del Mimit affinché tutti quanti per la loro parte mettano quel qualcosa in più affinché il progetto di rinnovazione vada in porto. Dopo l'uscita di scena di Mitsubishi crescono le preoccupazioni per un buon esito dell'avvertenza Varsila. All'incontro urgente, convocato dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiome e Wilm, erano presenti cinque parlamentari della nostra regione. Il sottosegretario Savino di Forza Italia, Matteoni di Fratelli d'Italia, Panizzut della Lega, Roiz e Serracchiani del PD, più al telefono da Roma Patuanelli per il Movimento 5 Stelle. Fuori dalla sede del circolo Fincantieri in Galleria Fenice, un folto gruppo di lavoratori che nella giornata odierna hanno attuato le prime quattro ore di sciopero. Noi non siamo favorevoli allo spezzatino e quindi chiediamo che venga trovato un soggetto industriale grande e magari soprattutto privato che si leghi al pubblico, quindi al nome di Ansaldo che è già uscito, per quello che è la riconversione e il mantenimento della vocazione industriale del sito. Il 19 ci sarà un tavolo importante nel quale si dovranno vedere gli effetti di cosa produrrà il primo incontro sull'accordo di programma che è previsto domani e quindi vorremmo già al 19 capire, è stato annunciato che c'è un soggetto industriale che resta nella partita e questo si chiama Ansaldo. Prima di tutto l'impegno che aveva preso il governo di portare Ansaldo e il 19 al tavolo, vorremmo che questo fosse confermato e questo abbiamo sollecitato i parlamentari. I tempi sono ristretti, l'attuale ammortizzatore sociale applicato, il contratto di solidarietà scadrà il 31 dicembre e non c'è conferma di proroga. Il tavolo del 19 deve impostare una linea che garantisca il mantenimento degli ammortizzatori sociali nel modo che i lavoratori non rischino di trovarsi senza neanche quelli e bisogna ripuntare, e questo abbiamo avuto conferma anche oggi, alla rendiustralizzazione dell'area, del sito. È stato perso un anno per un motivo o per l'altro, purtroppo è andata così. Non possiamo permetterci di non intervenire in quell'area, sia per i diretti che per l'indotto. E un altro punto importante è quello di costringere Varsila all'interno dell'accordo di programma a collaborare ad un percorso di reindustrializzazione.